Era operaio nella fabbrica romana della Breda quando Vittorio De Sicalo scelse come protagonista per Ladri di Biciclette. Dopo il film ritornò a fare l'operaio ma ha licenziato per diminuzione di personale. Intraprese di nuovo la carriera di attore. Nel decennio degli anni 50 è apparso in numerosi film come caratterista. Sposato si compina Nicolic, tenta anche l'avventura teatrale recitando a fianco di Tino Boazzelli in Come nasce un soggetto. Cinematografico diretto da Virginio Poecher nel 1959.